c'è Nostra Ciao a tutti sono Aurelio Ruggeri Terminator, oggi mi trovo qui a Lago Mondo Pesca ASD a Treville Castelfranco Veneto in provincia di Treviso. Questo impianto è molto bello perché qua verrà disputata la finale del campionato italiano squadra di Ipsas, il 3-4 dicembre, 4-5 dicembre. Perfetto quindi avrete modo anche di vedere un po' il campo gara che è il lago grande che è quello là in fondo. Ecco qui abbiamo con me Alessio che è il gestore in coppia con Maurizio che oggi non c'è, vi spiegherà un po' qua come funziona la pesca qui da lui. Allora la pesca nel trottare abbiamo destinato un lago medio dove abbiamo destinato per questa pesca che ha una disciplina nuova che sta ammassendo, sta prendendo piede qui da noi al nord perché è una disciplina che qua è ancora un po' sconosciuta. Stiamo provando che noi con questa nuova disciplina, con questo laghetto che l'abbiamo adibito per il trottare, stiamo avendo i bei risultati. Qualche volta sai com'è, purtroppo il pesce è vivo quindi delle volte risponde bene, delle volte un po' meno però la colpa là non è nostra, noi ce la mettiamo sempre il tutto per fare il pesce alla fine. Poi io e Maurizio siamo due che siamo agonisti quindi anche noi sappiamo che la gente per divertirsi deve prendere pesce. Poi devo farti complimenti perché vedo che qua hai investito molto in questo lago dove ci fanno molte competizioni dove ne ho già fatte due anch'io. Finora siamo arrivati a otto competizioni, adesso ne abbiamo anche uno al 27 che sono quelle dei giovani che hanno fatto i nuovi talenti. Qua si può pescare quali giorni della settimana? Tutti i giorni, tutti i pomeriggi dalle 13 alle 17 e sabato e domenica dalle 8 alle 17 con un orario continuato. Esatto, poi oltre al trottare qua cosa puoi pescare? Allora abbiamo il kill dove puoi prendere le trotte e portarle a casa dove la paghi 15 euro, puoi pescare con uno o due canne e teniamo 10 trotte e noi mettiamo quota perché così mettendo la quota mi ha creato più un ambiente per le famiglie per i meno agonisti e un po' più tranquilli. Dopo abbiamo 10 euro per il trottare a 4 ore e poi abbiamo l'ago delle carpe e dei bassi dove paghi 12 euro e peschi sempre 4 ore e prendi rilassi. Mi sembra che c'è da divertirsi un po' a tutti i modi. Sì dai la pesca e sono varie. Facciamo i complimenti perché il posto è veramente bello, tenuto bene, curato. Grazie. Vedremo come ci va la pesca oggi e adesso. Ce la proviamo, vediamo. E poi vediamo stasera il risultato. Esatto. Ciao a tutti. Ciao grazie. Prima pesca di giornata qua alla Montefesca. Un bel trunk. Grazie. 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 Grazie a tutti. Anche a micro Motta vertical e subito a frente Sempre a micro, che si sta stazionando molto in superficie Et voilà E' anche a crank Anche a top water Anche a top water Anche a top water Eccola Sto ancora rendendo molto bene a top water Anche a top water Anche a top water Eccola E direi proprio che oggi il vertical si prende a nastro Bene, anche oggi siamo giunti alla fine di questa sessione di pesca qui a Mondo Pesca Qui con me c'è Alessio Ti vuole dire qualcosina riguardo la gara del 3-4 dicembre 4-5 dicembre Speriamo che vada tutto bene Noi ce la mettiamo tutta quanta molando il pesce qualcosa in più come abbiamo gestito con Maurizio E speriamo ci sia un bel divertimento da parte di tutti In culo alla balena Il campo gara è questo che abbiamo qui alle spalle Questo è il nostro campo gara Per il resto oggi qua Alessio io mi sono divertito moltissimo mi sono allenato Bene Ti faccio i complimenti perché è un ottimo campo gara Una buona palestra per allenarsi Grazie Come hai visto abbiamo fatto tantissime catture Con diverse esche sia top water che crank Spoon, micro spoon Vertical pullet Quella lì non sbagli mai E sono divertito Ragazzi venite a provare questo lago perché veramente vi divertirete Alessio è qui che vi aspetta Grazie Aurelio di essere venuto qua Grazie a te che mi ha ospitato Arrivederci al prossimo video Restate sempre sintonizzati A presto Saluto da Alessio e Maurizio Ciao Ciao grazie